il dono più bello è un regalo di dio aprire le imposte al mattino e sentirsi baciare la pelle dal sole andare al lavoro e trovare con calma la risposta giusta ad un problema non tuo incontrare un povero per strada e comprare con gioia le sue cianfrusaglie è un regalo di dio far pace dopo giorni di silenzio sorridersi come nulla fosse stato e cercarsi per decidere insieme sentirsi il cuore che canta imbrigliato dalle bellezze della verde natura è un regalo di dio trasmettere agli altri che incontri il tuo messaggio di pace perché tutti sappiamo qual è il tuo segreto il meraviglioso regalo della vita che dio ti ha donato 2708 2014